Partiti 5 protagonisti del Le Marmore 2023 con Secret Boss che va a rilevare Wolverine mentre più indietro Barno figura in terza posizione rimontando all'interno My Immortal che lascia in coda Diomede Quintetto ora che si sta disponendo quasi in fila indiana Secret Boss galoppa in vantaggio nei confronti di Wolverine Barno più a largo galoppa invece My Immortal che lascia sempre in coda all'interno Diomede Si va ad affrontare la curva di pista grande con situazione tattica invariata Secret Boss che precede di un paio di lunghezze Wolverine quindi Barno che ha ora alla sella My Immortal è sempre fanalino di coda Diomede Poco prima delle tende a scartare all'esterno Secret Boss che allarga vistosamente ha problemi e finisce sullo steccato esterno all'interno si ritrova Wolverine nei confronti di Barno My Immortal e Diomede lieve vantaggio per Wolverine che per ora subisce l'attacco deciso di Diomede che risale dalla retroguardia e passa agevolmente in vantaggio quando siamo ai 300 finali Diomede che allunga e prevale nettamente su Wolverine e My Immortal nel finale Diomede che sta incrementando il vantaggio e va a concludere ancora in piena spinta con 4-5 lunghezze di vantaggio su Wolverine che precede il compagno di colori My Immortal per il secondo posto 2-5-3 l'arrivo della seconda con la vittoria di Diomede e Carlo Fiocchi che hanno seguito tranquilli in coda al quintetto poi sono entrati in azione ai 400 finali e hanno preso largamente il sopravvento sugli avversari tra i quali Wolverine ha controllato il compagno My Immortal per i numeri 2-5-3 questo l'arrivo ufficioso della seconda Grazie mille! 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 Grazie.